Epistola di Paolo Apostolo ai Galati, Capitolo 1 Paolo, Apostolo, non dagli uomini né per mezzo di alcun uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signor nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, al fine di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Vangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano, e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso. Se alcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio? O cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. E in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione da Gesù Cristo. Difatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a tutto potere la chiesa di Dio e la devastavo, e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età, tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Ma quando il Dio, che mi aveva appartato sino dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue, e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia. Quindi tornai di nuovo a Damasco. Di poi, in capo a tre anni, salì a Gerusalemme per visitare Cefa, e stetti da lui quindici giorni, e non vidi alcun altro degli apostoli, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Ora, circa le cose che vi scrivo, ecco, nel cospetto di Dio, vi dichiaro che non mentisco. Poi venni nelle contrade della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto di persona alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire, colui che già ci perseguitava, ora predica la fede che altra volta cercava di distruggere, e per causa mia glorificavano il Dio. Capitolo 2 Poi, passati quattordici anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo anche Tito con me. E vi salì in seguito ad una rivelazione, ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente ai più ragguardevoli, onde io non corressi o non avessi corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, e questo a cagione dei falsi fratelli, introdottisi di soppiatto, i quali si erano insinuati fra noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù col fine di ridurci in schiavitù. Alle imposizioni di costoro noi non cedemmo neppure per un momento affinché la verità del Vangelo rimanesse ferma tra voi. Ma quelli che godono di particolare considerazione, quali già siano stati a me non importa, i Dio non ha riguardi personali. Quelli, dico che godono maggiore considerazione, non mi imposero nulla di più. Anzi, quando videro che a me era stata affidata la evangelizzazione degli incirconcisi, come a Pietro quella dei circoncisi, poiché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo della circoncisione, aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili, e quando conobbero la grazia che mi era stata accordata, Giacomo e Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, dettero a me ed a Barnaba la mano di associazione perché noi andassimo ai gentili ed essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, e questo mi sono studiato di farlo. Ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia perché egli era da condannare. Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi gentili. Ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritirarsi e a separarsi per timore di quelli della circoncisione. E gli altri giudei si misero a simulare anche essi con lui, talché perfino Barnaba fu trascinato dalla loro simulazione. Ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla verità del Vangelo, io dissi a Cefa in presenza di tutti. Se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, come mai costringi i gentili a giudaizzare? Noi che siamo giudei di nascita e non peccatori di fra i gentili, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù al fine di essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, Cristo è egli un ministro di peccato? Così non sia, perché se io riedifico le cose che ho distrutte, mi dimostro trasgressore, poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Capitolo 3 O galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi dinnanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisto è stato ritratto al vivo. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo avere cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose in vano? Seppure è proprio in vano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi dei miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio e ciò li fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella, in te saranno benedette tutte le genti. Talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Ora che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice, chi avrà messe in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Un patto che sia stato validamente concluso, sia pure soltanto un patto d'uomo, nessuno lo annulla o vi aggiunge alcunché. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e dalla sua progenie. Non dice e alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice alla tua progenie, che è Cristo. Ora io dico, un patto già prima debitamente stabilito da Dio, la legge, che venne quattrocentotrenta anni dopo, non lo invalida in guisa da annullare la promessa, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Ora, ad Abramo Dio l'ha donata per via di promessa. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio, così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi alla fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi in custodia sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Tal che la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E se siete di Cristo siete dunque progenie di Abramo, eredi secondo la promessa. Capitolo 4 Ora io vi dico, fin tanto che l'erede e fanciullo non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e curatori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliuolo, nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figlioli. E perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo spirito del suo figliuolo nei nostri cuori, che grida Abba Padre, tal che tu non sei più servo ma figliuolo, e se sei figliuolo sei anche erede per grazia di Dio. In quel tempo è vero, non avendo conoscenza di Dio, voi avete servito a quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali volete di bel nuovo ricominciare a servire? Voi osservate giorni e mesi e stagioni ed anni. Io temo quanto a voi di essermi in vano affaticato per voi. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anche io sono come voi. Voi non mi faceste alcun torto, anzi, sapete bene che fu a motivo di una infermità della carne che vi evangelizzai la prima volta. E quella mia infermità corporale, che era per voi una prova, voi non la sprezzaste né l'aveste a schifo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio come Cristo Gesù stesso. Dove sono dunque le vostre proteste di gioia? Poiché io vi rendo questa testimonianza, che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono io dunque divenuto vostro nemico, dicendovi la verità? Costoro sono zelanti di voi, ma non per fini onesti, anzi, vi vogliono staccare da noi perché il vostro zelo si volga a loro. Ora è una bella cosa essere oggetto dello zelo altrui nel bene, in ogni tempo, e non solo quando sono presente fra voi. Figlioletti miei, per i quali io sono di nuovo indoglie finché Cristo sia formato in voi, o come vorrei essere ora presente fra voi e cambiare tono perché son perplesso riguardo a voi. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Perché sta scritto che Abramo ebbe due figliuoli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello dalla schiava nacque secondo la carne, mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico, poiché queste due donne sono due patti. L'uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale è schiava con i suoi figliuoli. Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre, poiché è scritto, Rallegrati o sterile che non partorivi. Prorrompi in grida tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figliuoli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito. Ora voi, fratelli, siete figliuoli della promessa alla maniera di Isacco. Ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figliuolo, perché il figliuolo della schiava non sarà erede col figliuolo della libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figliuoli della schiava, ma della libera. Capitolo 5 Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi, e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Ecco io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo protesto ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in ispirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno. Quel che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Voi correvate bene chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi conturba ne porterà alla pena chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facessero pure anche virare quelli che vi mettono sottosopra. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ora io vi dico, camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro, in guisa che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, tregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altri simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Il frutto dello spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo spirito, camminiamo altresì per lo spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Capitolo 6 Fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. E bada bene a te stesso, che talora anche tu non sii tentato. Portate i pesi gli uni degli altri, e così adempirete la legge di Cristo. Poiché se alcuno si stima essere qualcosa, pur non essendo nulla, egli inganna se stesso. Ciascuno esamine invece l'opera propria, e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto, e non rispetto ad altri, poiché ciascuno porterà il suo proprio carico. Colui che viene ammaestrato nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo ammaestra. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Guardate con che grosso carattere vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati per la croce di Cristo, poiché neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliano che siate circoncisi per potersi gloriare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi glori di altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. Poiché tanto la circoncisione che la incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. E su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo le stimmate di Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia col vostro spirito, fratelli. Amen.